A distanza di poco più di una settimana i ladri sono tornati di nuovo da panichi. Che cosa sta succedendo? Non lo so, veramente senza parole. Siamo stanchi, esausti e poi non so cosa c'è, veramente avete visto anche dalle immagini che non ci sta niente di così... Lunedì scorso un incendio e questa volta hanno portato via dei buoni pasto. Sì, buoni pasto che in gran parte erano timbrati, quindi adesso dobbiamo ancora quantificare quanti ne erano. Però diciamo che sicuramente svariate migliaia di euro, ma dobbiamo vedere solamente... Questa volta sono entrati dalla finestra del locale che era stato messo sotto sopra dall'incendio. Sì, diciamo che ancora non finiamo di ripristinare il precedente furto e di conseguenza sono entrati dalla stessa finestra che avevano rotto l'altra volta. Ma che motivazioni vi date? Chi potrebbe essere? Tossicodipendenti? Chi? Sì, sinceramente non lo sappiamo e neanche ci esprimiamo perché non ci sono più parole, veramente. Come pensate di tutelarvi? No, niente, noi dobbiamo solamente ripristinare l'allarme che purtroppo per questioni tecniche, siccome non avendo l'elettricità sulla parte dove stavano le centraline e tutto quanto altro, siamo solo in attesa di ripristino, quindi l'allarme c'era e che purtroppo in questo periodo non funzionava perché era incendiato tutto, centraline e tutto quanto altro.